Guardaci, guardaci adesso, non c'è più... Alessandra Amoroso in concerto, giovedì 8 ottobre alle ore 20, in diretta in alta definizione in questo cinema. Un evento eccezionale. Alessandra si racconterà e presenterà le canzoni del suo nuovo album, in diretta da Limelight di Milano. Vivi l'emozione di una serata unica, con Alessandra Amoroso. Alessandra Amoroso